e aspetta posso salutare non dopo ciao a tutti ragazzi io sono michele e benvenuti in questo nuovissimo video c'è anche mio fratello rompiscato ripresentati normalmente come ti ho detto ciao io sono alessandro comunque ora vi faccio vedere l'orologio rotto solo quello non proprio tutto anche le lampadine guardatelo così guarda l'orologio rotto come sempre e poi la televisione quella la lampada e queste sono le palline accendere come vedete quando ho paura quando ho paura del buio no non sono fifone cioè quando io ho paura del buio accendo sempre queste lampadine puoi spegnere spegnere spegnili spegnili facile se questo video vi sia piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi da michele zoppo e qui sotto sui commenti e qui sotto sui commenti si iscrivetevi e premete la campanile campanellina e ciao ciao ad alessandro 2001 2012 e io michele 2011 che ho 7 anni adesso sono 6 anni ve l'ho detto nell'altro video comunque ciao ragazzi ciao ci vediamo alla prossima volta nel video ok ciao ciao